Di coach Salvatore Bernardo Lo scarico per il tentativo L'attacco di Catazzaro va da solo Termine del primo periodo Nunzio Sabatino Sparisce Si rifugia da Federico L'asset di Fabino Ancora Nunzio La giocata C'è Stanic Che scarica il tentativo Non lo ritengono un pericolo Intanto non difendere Si di chi fa ora Poi il tiro Lo scarico La finza Di Dispinseri Dimitrovic sbaglia Poi qua Pala giocatona Federico Il passaggio di Federico 3 minuti e 5 secondi Qua Si ha Parte lungo Salva 40 secondi Termine del primo periodo Luigi Dispinseri Solo per un attimo E ora E 4 contro 1 E Lugovic pure Per la formazione Siciliano Va di tabella E sbaglia Rimbalzo Al resto E tiro Mota il blocco Federico Poi la giocata Tra Federico E Canestrari Prova di involarsi Ma si è chiusa bene Gela Lugovic 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 Sono stati dolori Ma lì per il fortunio Scaiola Gran Per Canestrari Sabatino Ci prova Da 3 Gela E sbaglia Il Catanzaro Comunque È in vantaggio Ancora Sabatino Scarica Per Sipovac Va Sipovac Tutti esatti Da giocare Va E ne buona Lecaiola 11 punti In questo match Per lui Sipovac Poi Canestrari Sul ferro Ma poi La magia Libre Agosto Poi Recupera Il pallone Sipovac Buona la seconda Invece Per Luigi Di Spinzeri Settimo punto Del suo match Eccedenza Tutti i 6 punti L'aveva fatti Nel primo Quarto Federico Va da solo Federico E va a segno 4 punti Arresto e tiro Di Canestrari Sette minuti Al termine Del terzo periodo Più 10 Catanzaro Che però Qui la difesa Di Nunzio Sabatino Sipovac Sipovac Scarica 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 Longo però Tra le mani Di Dimitrovic Che va in penetrazione E va a segno C'è bisogno Di un'altra mazzata Per Tenere A distanza Di sicurezza Di cui 9 da 3 Nuzio Sabatino Prova a metterci Il proprio Luigi Di Spinseri L'assist Di Luigi Di Spinseri Pronto ad entrare Il 3 pointer Gabriele Corapi Ma a proposito Di 3 pointer A realizzare Il beat and buzzer Agosto Da sotto Agosto Il vantaggio Per 69 52 Sipovac Che deve cercare Di rimediare Gaspare Caio Altro tentativo Che viene raccolto Da agosto No look Guardate qua Che azione Di Catanzaro Arresto e tiro Morti Al termine Di quest'azione Canestrari Lo scarico Alla tripla Di Marco Marco Canestrari Dall'altra parte Dal leader Ma intanto Non entrare i giovani Per Catanzaro E i top C'è il tempo Federico recupera Il pallone L'assist Per Sipovac Che schiaccia Di mercoledì Con grande entusiasmo MVP del match Mi sento di darlo A Annunzio Sabatino Che ha disputato Una prestazione Strepitosa 23 punti Al referto Ma tanti rimbalzi Tanti assist Tanta grinta Tanta carica Per i compagni Di un gradino Ma proprio Mezzo gradino sotto Marco Canestrari Anche lui Massimo In stagione 19 punti E tante triple Al referto Davvero Una prestazione di livello Per Catanzaro Che festeggi